Entro la fine di giugno verrà indetta la consultazione in rete sul doppio mandato. Come sapete questo è un vincolo che noi abbiamo, è un vincolo originario, è una decisione quindi che questa sul mantenimento, sull'eventuale modifica, che non può che essere rimessa alla nostra comunità degli iscritti. Io l'ho già dichiarato, avevo anticipato che avrei aspettato questa tornata elettorale per poi porre in votazione, è una questione che ovviamente riguarda ed è molto importante per la nostra comunità, ma è un momento cruciale, è un tratto identitario ed è giusto che su questo tema, su questo passaggio così decisivo, siano tutti gli iscritti a potersi esprimere. Qui andiamo a toccare nel vivo la storia del movimento di ieri, ma anche quella di oggi e quindi di domani.